Musica Buonasera, buonasera e naturalmente ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del sabato con Nero su Bianco come sempre servizi e curiosità nell'ambito del nostro appuntamento che apriremo con momenti di panico, di paura che sono stati vissuti in settimana Civitanova quando un giovane è entrato nella chiesa durante la funzione religiosa delle ore 19 con uno zainetto sulle spalle e braccia alzate, si è temuto addirittura un atto terroristico poi fortunatamente tutto si è risolto per il meglio invece c'è tanta paura nel Fermano perché anche nei giorni scorsi c'è stata l'esplosione di un altro ordigno nei pressi della chiesa di Don Vinicio Albanesi e non è il primo caso andremo poi ad Ancona che è un cantiere aperto soprattutto in centro quindi cambiano un po' le abitudini dai bancarellari alla gente e cercheremo anche attraverso un altro servizio di capire quanto costa per i cittadini la manutenzione delle strade in alcuni comuni addirittura solo pochi centesimi, in altri invece il costo non è assolutamente irrilevante poi vi parleremo di buona scuola grazie ai ragazzi del Galilei di Yeezy che hanno piazzato tre progetti scientifici alla fase finale invece in chiusura dedicheremo le nostre attenzioni alla Barbie, la bambola insomma immortale possiamo così definirla avrà addirittura una mostra a Roma ma molti non sanno che nelle marche c'è la collezione più importante d'Italia con oltre 700 pezzi e allora come sempre servizi e curiosità con Nero Su Bianco, in apertura andiamo a Civitanova per il racconto, il resoconto di quello che è accaduto in settimana quando sono stati vissuti veramente degli attimi di grande paura, di terrore direi per un giovane che è entrato in chiesa con zainetto sulle spalle e braccia alzate, guardate L'atmosfera di fede e spiritualità che si respira durante la messa, turbata da un giovane entrato in chiesa nel mezzo della celebrazione e arrivato fino all'altare alzando le braccia al cielo, è successo a Civitanova Marche alla chiesa di Cristo Re durante la liturgia della domenica pomeriggio celebrata da Don Mario Colabianchi protagonista del gesto, un ragazzo di 25 anni, italo-nigeriano e subito si è pensato al peggio e in molti è scattata la psicosi terrorismo Il ragazzo indossava uno zaino particolare che ha suscitato timore tra i fedeli, tanto che molti di loro hanno preferito uscire Così ci ha raccontato una parrocchiana che era tra i fedeli che assistevano alla messa Vi siete spaventati? Sì Cosa pensavate che stesse succedendo? Eh non lo so, non lo so Ma diceva delle parole? No, 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 non parlava niente E come faceva con le mie braccia? Eh rialzava, faceva così Il ginocchio Nonostante il parroco in tutto questo? Niente, stava praticando e si è fermato un attimo E non ho detto niente E con gli altri che vi dicevate? Che pensavate? Niente, siamo usciti e basta Nonostante la preoccupazione della gente, il parroco Don Mario aveva capito subito che quel ragazzo non aveva nulla a che fare con il terrorismo E così è andato avanti nella celebrazione della messa come ci ha confermato al telefono Io ho continuato la celebrazione della messa sia nell'omelia sia poi successivamente fino alla conclusione Sono fermato soltanto quando è intervenuta la polizia in chiesa Che ci sia una forma di, chiamiamola, di psicosi, di paure Io capisco, comprendo No, io ho pensato, ho ritenuto un po' più uno Cioè continuare anche la celebrazione Proprio anche per tranquillizzare Una volta portato in commissariato, il giovane ha riferito di essersi recato in chiesa a pregare La vicenda è stata segnalata all'autorità giudiziaria Avendo il ragazzo interrotto la funzione religiosa e opposto resistenza agli agenti di polizia Questo è quello che è accaduto lo scorso 11 aprile a Civitanova Marche Invece il 13 a Fermo si è registrata purtroppo l'esplosione di un altro ordigno Sì, sono costretto a dire un altro ordigno perché non è il primo caso Di fronte alla chiesa di Donna Vinicio Albanese Era accaduto già di fronte ad altre chiese del Fermano Vediamo È stata forte, forte veramente L'ha sentita a chilometri di distanza I testimoni riferiscono di un'esplosione fortissima Simile a quella di una bombola del gas Ma quello che è successo all'abbazia di San Marco alle paludi di Fermo è ben diverso Si tratta di un gesto intimidatorio Un ordigno rudimentale piazzato davanti all'ingresso ha infranto i vetri Distrutto il rosone e danneggiato il portone È successo alle 23.30 Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e forze dell'ordine Poi la zona è stata transennata I danni sono ingenti ma non è questo a preoccupare Quello che preoccupa è che questo è il terzo atto intimidatorio Nei confronti delle chiese del Fermano in pochi mesi Prima è toccato al Duomo e a San Tommaso A Don Pietro Razzi e a Don Sebastiano Ora a Don Vinicio Albanesi Tre preti legati alla Caritas Tre preti che si occupano di accoglienza Gli tre episodi sono legati Perché sono rivolti a tre preti Che si occupano di Caritas E che abitano in una particolare zona Quindi il segnale che viene dato è abbastanza semplice Cioè non occupatevi troppo di quello che state facendo E vedete di calmarvi In particolare la chiesa di Don Sebastiano si trova a Lido Trearchi Una zona dove risiedono molti stranieri Don Pietro invece è presidente della Caritas L'impegno di Don Vinicio è noto a tutti Nessuno di loro ha mai ricevuto intimidazioni o minacce Ma lo stile adottato, dice Don Vinicio, è quasi mafioso In ogni caso nessuno intende farsi scoraggiare Questi segnali lungi dallo scoraggiarci Invece ci invitano a continuare quello che facciamo Senza paura di nessuno Perché quando uno fa del bene Non disturba nessuno, anzi E adesso invece cambiamo argomento Per mostrarvi di abitudini cambiate Nel centro di Ancona A causa di lavori Per l'appunto Nel cuore della città Per esempio i bancarellari Si sono spostati Guardiamo Per il momento si tratta di uno spostamento Di due settimane Ma con ogni probabilità sarà prolungato Visto che i lavori per il Metropolitan In corso Mazzini richiederanno mesi Certo è che le bancarelle del mercato Spostate su piazza Roma E sul primo tratto di Corso Garibaldi Danno un volto tutto nuovo al centro di Ancona E un senso di vitalità Che sembra piacere a tutti La modifica ha riguardato 33 ambulanti Sfrattati per consentire la sistemazione Lungo Corso Mazzini Delle tubature di gas, acqua e luce All'ex Metropolitan Ad animare però il centro città In questi giorni c'è anche il continuo via vai Nella libreria Canonici La notizia della chiusura dello storico esercizio commerciale Aperto 91 anni fa E la svendita che si terrà fino a metà luglio Hanno scatenato gli anconetani Che tra malinconia e voglia di fare un affare Affollano ogni giorno il locale Per portarsi a casa un pezzetto di storia cittadina Invece ora con Caterina Cantori Cerchiamo di capire quanto costa La manutenzione delle strade nelle marche Per alcuni comuni anche soltanto pochi centesimi Per altri invece la cifra aumenta considerevolmente Vediamo Quello che spende di più è Castel Sant'Angelo sul Nera Con 987 euro Il comune del Maceratese Si piazza all'86esimo posto Tra tutti i comuni italiani Nella graduatoria della spesa pro capite Per la viabilità Ovvero la somma che ogni cittadino Spende per la cura e la manutenzione Delle proprie strade L'ultimo nella graduatoria regionale È invece Mergo in provincia di Ancona Con 48 centesimi Il conto lo ha presentato L'associazione Open Police Che ha redatto un report Con la spesa dei comuni Per strade e viabilità Riferito ai bilanci del 2013 Nella nostra regione La classifica veda i primi posti Soprattutto i piccoli comuni Dell'entroterra maceratese e Fermano Fior di Monte al secondo posto Ha una spesa di poco più di 958 euro pro capite Poi si passa ai circa 723 euro Di Montefalco Appennino E giù a scendere Corripe San Ginesio Vissu e Ussita Per trovare la provincia di Ancona Dobbiamo arrivare al diciannovesimo posto Con Genga Che spende poco meno di 253 euro Subito dopo appare Lascolano con Consignano Per quanto riguarda i capoluoghi Il più prodigo è fermo Al centocinquesimo posto Su 237 E una spesa media di 89,91 euro Seguono Pesaro con 69,23 Ascoli Piceno 57,72 Ancona 45,94 E Macerata Con una spesa pro capite di 29,12 euro Nella voce di spesa viabilità Non rientrano solo i costi dell'asfalto Per riparare le buche Sono compresi tutti gli interventi infrastrutturali Necessari per migliorare la mobilità urbana Quindi rotonde, ponti, strade Ma anche piste ciclabili e aree pedonali Ed ora con Federica Curlitt Invece parliamo di buona scuola Perlomeno quella che ha portato Dei risultati eccellenti Per i ragazzi delle Galilei di Iesi Che hanno piazzato addirittura Tre progetti scientifici A una fase finale Vediamo È stata una grandissima emozione Molto inaspettato Effettivamente eravamo andati su Senza aspettarci grandi cose Invece è stata una bellissima esperienza E i premi sono stati davvero molto graditi Quindi siamo molto felici tutti quanti Sono ancora emozionati gli otto studenti Dell'istituto Galileo Galilei di Iesi Appena tornati da Milano Dove si è tenuta la fase finale Dello storico concorso Ben 28 le edizioni I giovani e le scienze Contest internazionale Destinato alla valorizzazione Dei giovani studenti Che si avvicinano al mondo Della scienza e della ricerca Un vero trionfo per l'istituto marchigiano Tornato a casa con ben tre premi in tasca Grazie ad altrettanti progetti Elaborati dai ragazzi Sotto la spinta e la supervisione Dei docenti Edgardo Catalani E Emilio Antonelli Progetti tutti innovativi e originali Come quello di Erika e Gianluca Che hanno studiato l'acqua in ebollizione Questo progetto consiste in un metodo Per poter riconoscere come l'acqua È stata riscaldata in precedenza Se quindi con il forno a microonde Con la piastra e tramite uno strumento Che si chiama spettrofotometro Noi siamo riusciti insomma a capire Abbiamo studiato un metodo Per poter capire come l'acqua è stata riscaldata Hanno invece individuato un modello sperimentale Per distinguere le farine con glutine Da quelle senza glutine Basandosi sulla loro struttura proteica Alice, Giulia e Valentina L'originalità sta proprio nel fatto Che nessuno l'ha mai fatto Usando la spettroscopia infrarossa E noi l'abbiamo attuato Questo processo tramite uno strumento Molto delicato ed efficiente Che abbiamo qui a scuola Come mai l'idea di sperimentare sulle farine? Abbiamo pensato di trattare questo argomento In quanto la celiachia è un problema molto attuale Che si è sempre più diffuso E quindi abbiamo cercato di indagare Su questo modello sperimentale Proprio per dare una conferma Nelle eventuali contaminazioni di glutine Dei vari prodotti Altrettanto interessante il progetto È un progetto di Luca, Emanuele e Valentina Incentrato sugli ossi di seppia Come prezioso materiale contro gli inquinanti L'originalità di questo progetto Sta nel fatto che noi utilizziamo Un materiale di scarto Che sono gli ossi di seppia Per eliminare appunto degli inquinanti Che stanno diventando un problema È un progetto che potrebbe essere utilizzato In futuro proprio come antinquinante? Certo, infatti le applicazioni Le possiamo trovare soprattutto Nei garage, nelle auto-officine Comunque in ambienti chiusi dove questi gas Possono essere presenti in maggiore concentrazione Freschi di vittoria Questi giovani Archimede Ora voleranno a Stoccolma, a Bruxelles e a Houston Per partecipare ai più prestigiosi eventi internazionali Dedicati all'eccellenza scolastica E chissà che non prendano spunti e nuove idee Da sviluppare per i prossimi concorsi Ed ora invece cambiamo decisamente argomento Parliamo di Barbie Parliamo della Bambola Immortale A cui verrà dedicata una mostra a Roma Ma insomma c'è anche da tenere in considerazione Il fatto che nelle marche C'è un collezionista che ha addirittura 700 pezzi E direi che questa è sicuramente La collezione più importante d'Italia Vediamo Per definizione è la regina dei giocattoli Di tutte le bambine e di tutte le generazioni Dal 1959 anno della sua nascita ad oggi La Barbie ha un posto particolare nei cuori delle ragazzine Più di qualsiasi altro giocattolo E proprio a lei è dedicata la mostra Che si aprirà il 15 aprile Per concludersi il 30 ottobre Al complesso del Vittoriano di Roma E che permetterà di fare un viaggio Dalla sua nascita ad oggi Barbie l'icona, il titolo dell'esposizione E che la Barbie sia un'icona irresistibile di moda e bellezza Lo sa bene Rossella Iobby Che custodisce nella sua abitazione di ripatransone Un'intera e preziosissima collezione di Barbie Tutta per sé I pezzi erano circa 300 nel 2008 Ed oggi sono più che raddoppiati Sono ben 700 acquistati tramite internet Grazie a contatti in America Che le hanno permesso di entrare in possesso Di alcune edizioni limitatissime Numeri che fanno della collezione di Rossella La più grande raccolta del genere in Italia Una passione che la ragazza ha voluto condividere Con quanti amano come lei il mondo di Barbie Aprendo le porte della sua casa L'agriturismo e i due cipressi di ripatransone Più piccoli ma anche ai grandi Visto che in mostra ci sono pezzi rarissimi e preziosissimi E che la Barbie è ormai diventata un simbolo universale Emblema della storia del costume e della moda E così nel cuore delle marche a ripatransone La mostra di Rossella è sicuramente in grado di competere Con quella che tra pochi giorni sarà allestita al Vittoriano di Roma E con i pezzi della collezione di Barbie Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento del sabato Con Nero Subianco E come sempre vi ringrazio dell'attenzione prestata Vi ricordo la puntata di domani Quella della domenica con Fabio Girolimetti Invece con il sottoscritto L'appuntamento è rinnovato come sempre per sabato prossimo Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti